Sarà aperto uno sportello dell'Agenzia delle Entrate a Mistretta. Si tratta di un punto di assistenza dell'Agenzia di Sant'Agata Militello che garantirà ai utenti gli stessi servizi prima erogati dall'Ufficio Territoriale a Mastratino chiuso a causa della spending review. Lo sportello avrà sede nei locali comunali dell'ex Museo Civico Polivalente in via Monte 12, ristrutturati e messi a nuovo dall'amministrazione comunale. Il sindaco Antoci ha sottoscritto ieri a Messina un contratto con la direzione provinciale dell'Agenzia per la concessione incomodato d'uso degli spazi. Si chiude così una vicenda difficile che aveva visto ancora una volta la cittadina di Mistretta colpita da una chiusura. Grande la soddisfazione espressa dal primo cittadino, Iano Antoci, che ha sottolineato l'impegno della sua amministrazione per mantenere un servizio importantissimo per l'intero territorio dei nebbrodi occidentali. L'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato Antoci, ha condiviso la nostra esigenza di assicurare il mantenimento di un presidio nel territorio, che garantisce ai tanti professionisti della zona di ottimizzare tempo e danaro. Abbiamo, continua Antoci, ristrutturato i locali di via Monte, adeguandoli alle normative vigenti e seguendo le indicazioni dei tecnici dell'Agenzia che hanno effettuato diversi sopralluoghi. Tutto bene quel che finisce bene, insomma, almeno per l'Agenzia delle Entrate. La data e gli orari di apertura del punto di assistenza saranno comunicati nei prossimi giorni.